Nascerà un campus, il più grande d'Italia e forse d'Europa, capace di ospitare fino a 4.500 studenti. Il patto tra l'università e il mondo della sanità, che io ho voluto in Lombardia da diversi anni, si compie in maniera ottimale nella città di Pavia, dopo che già altre realtà sono state molto positive nel corso di questi anni, perché la salute e la sanità crescono e puntano decisamente all'eccellenza quando si mette insieme la ricerca e la didattica tipiche dell'università, con la cura dei malati, l'assistenza, le ottime pratiche di intervento sanitario. Bisogna tenere insieme questi cinque fattori, questo grande accordo con il vero e proprio contratto, ormai le cose partono, questo grande contratto rende ancora di più attraente ed eccellente la sanità nella nostra regione.